Il futuro del volantino nel prossimo futuro che sono senz'altro alcuni anni quantomeno è quello di continuare il suo ruolo di informazione, il suo ruolo di formazione per le persone divulgando qualità di prodotti, immagini di prodotti, novità di prodotti e anche promozionalità naturalmente. Quello che è auspicabile per il prossimissimo futuro è quello che la qualità del volantino possa migliorare magari portando delle sinergie tra immagini di prodotto e reali prodotti che sono nel punto di vendita, cosa che talvolta oggi non accade ancora piuttosto che delle informazioni su categorie merceologiche che sono meno frequentemente consumate, acquistate dalla popolazione, dai consumatori italiani.